Ok, vai 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 Sai i follower Mi dispiace Mi dispiace che Stefano parte Vieni a Rimini Facciamo il campo dell'Italian Show Qual è la barra tizia? La mia solita Lo vuoi rifare l'Italian Show? Comunque quei paracalli la scuola L'idea è aperta Ma l'abbiamo scelti di notte per te Lo sai Mentre tu non c'eri Sceglievamo i tuoi paracalli Tizia Dieci Cinque Quattro Tre Due Uno Go Fa l'ultimo Quattro Basta Recupera Giù Drop Tre Due Uno Vai Cinque Sei Fa l'ultimo Lascia Otto Cinque Quattro Tre Due Vai No No Lascia Dieci Bravo Fai di due alla volta Vai Che cazzo ne so Quinti Venti Due alla volta Vai Undici Brava Lascia Vai Vai Altri due Dai respira Tredici Brava Giù 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 Quattro Vai Vai L'ultimi due Poi fai tutti da uno Vai Quindici Va bene Vai da uno Vai Dai 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 subito Vai Bravo Lascia Vai Fallo cadere Fallo cadere Sennò ti stanchi la presa Vai Lascia Brava Diciannove Lascia Brava L'ultimo E brava Vai Lascia Ok Respira Tizia Cinque alla volta Uno Due Bravo Tre Pure se ce l'hai Fermati Quattro L'ultimo Basta Recupera Così Tre Due Uno Risali Vai Sei Sette Occe E nove Dai Va Giù Recupera Respira Tre Due Uno Vai Risali Brava Giù Tre Due Uno Dai Pallunghiamo un po' il recupero Dai Fatti sti altri cinque Due Dai Uno Ok Recupera un po' di più Fermala Respira Quattro Tre Due Uno Dai Dai Bravissimi Giù Gli ultimi cinque Cinque Quattro Tre Due Uno Dai Fai gli ultimi Dai Hai finito Dai Due Brava Tre Quattro L'ultimo Brava Giù Tutti drop and go Uno e lasci Uno e lasci Siamo a cinque minuti Quattro Tre Due Uno Vai Forte con le gambe Spingi con le gambe Uno Lascia Vai Vai Dai Due Due Dai Non troppo Dai Tre secondi e riparti Vai Tre Due Uno Vai Vai Tre Due Uno Respira eh Dai Aria Lancia dura Dai Fuori Bravo Brava Siamo a memoria per tutti e tre i video Siamo a speranza Dove Siamo a speranza che fa Mando il tuo eh Dopo lo cangelli Ho pensato Aspetta cinque minuti Lo mandi Lo cangelli Dai 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 Quanto sta Cinque Dai Sei Brava Sette Dai 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 Non troppo Dai 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 Vai Dai non troppo Dai 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 Cinque Cinque Dai Dai Bravo Dai Dai Ce l'hai Dai Ce l'hai Dai Non aspetta troppo Dai 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 Parti che lo fai Parti che lo fai Dai No no tizia Dai Togliti sti due Dai 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 L'ultimo dai Levatelo Dai Dai No no tizia No tizia No tizia Non c'è più peso Levit No tizia No tizia Vedi non sembra ma ha detto cos'etto 35, 45, 50, master 40, 40, 50, 55, è così? L'hanno sbagliato, ma non bello. No, no, non ho sbagliato, standard master, RX. Due. Vabbè, due alla volta, dai. Mi faccio sbagliare, io c'è il suo parolo, dovevo far colpito, quindi... Tu sei veramente. Dai. Tre. Dai. Quattro, brava. Dai, brava, Zuzia, dai. Vai, Zuzia, vai. Dai così, due, 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 vai. Va bene. Venti a ritirare, ma faccio. Guarda in giro. Dai, cinque. Sei, bravissimo, dai, dai. Sette. 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 Sette, ripa. Bene, bene collegato, bene collegato. bravo. Dai, tizio. dai no andiamo dopo con la chiave va bene dai 11 e risalvi se lo fai una volta risalvi dai dai non l'aria adesso dai uno va bene ma risali subito vai bravo dai non ti narca troppo se no non ci arrivi dai 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 così così dai risali subito dai 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 ci sta siamo a 12 minuti vai dai 15 solo 5 6 6 dai 4 dai 17 dai 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 bravo 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 dai bravo dai dai stiamo a 13 minuti mancano 3 minuti dai 3 minuti inizia 10 10 10 1 1 1 ci pensiamo dai devi arrivare a scuola non ti puoi fermare dai 10 inizia 10 inizia 10 dai decisa spingi con le gambe dai è facile è facile con le gambe dai dai bravo dai bravo uno e se te lo tiri addosso va, vai dai, decisa addosso, tiratelo vicino, vicino bravo, due così tizia, così, dai se te lo tiri bene va dai dai, brava tre, tre, dai, 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 così, così ora li stai a fare bene addosso, vai dai, 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 dai ce l'hai, ce l'hai, se non te lo allontani ce l'hai, dai dai, là, brava brava oh, va benissimo, dai, continua così ma li stai a fare bene, vai non ti pesano, dai dai, dai dai, bravo 15 e 20, dai, siamo al 5, dai, chiudimi questi, dai dai, 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 tizia, dai, dai dai oh, ce l'hai, dai dai bravo vedi che ce l'hai dai dai, rivacci, dai quattro te ne mancano dai tizia, quattro dai tizia, veloce subito tizia, lo fai, non aspetta tutto sto tempo, vai dai bravo bravo dai dai, un altro, un altro, un altro va bene, basta, fermo, 3, 2, 1, fermo va bene tizia, sei andato a bene, sei andato a meglio migliorato, eh migliorato ogni rep che non fai 10, 13 rep eh, sono un secondo al rep quindi 16 più 13 più seconda 16 e 13 tizia, quando lasciamo, quando mettiamo il complet 50 così è 55 60 così 57 100 1 e 1 1 e 1 1 e 1 1 e 1 1 e 1 1 e 1 a 19 partiamo tizia stai così, stati tranquilli e regui stai così, stati tranquilli e regui basta stati tranquilli e prego non oh, no, mi prendete stati da da Marianna un ciuccio dai sciogli le braccia no non è che non si può mettere quando ti vado a caricare su youtube ti blocca il video youtube o si deve mettere qualcosa di aspetta spedizia va bene tiziana hai migliorato già va bene stiamo a 18 sono passati due minuti aspetta un altro minuto e andiamo 508 bene guarda il 500 scusate oh ma quando ti vado a fare meglio un pochino non te lo vado che lo devi fare dai dai ferma fizzia addosso come prima eh come prima dai dai fizzia metti un po' di magnesite qua sulle spalle e sulla clavicola vai così bravo aspetta 20 secondi 19 e 30 andiamo bravo là ok buone la crema dai 5 4 3 2 1 fasso complex dai 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 bravo bravo dai dai fizzia perché dai te li hai fatti bene fino a mo' dai dai sono due pianti qua no no dai dai quant'è tizia devi recupera un attimo siamo a 20 a 22 scade a 21 parti ferma 21 e 20 recupera le cuore è che stai stando le hai fatte bene fino a mo' se devo togliere 1 e mezzo se dopo non lo fa che fai? lo fai 1 e 1 mezzo chilo si si devo togliere 1 e mezzo mezzo 1 e 1 no 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 se dopo non lo fai lo devi rifare poi lascia lascia soli verdi togli 1 e 1 1 e 1 dai chiudiamo questo sicuro se no comunque il vuoto non è andato male no no dai dai brava brava cazzo dai metti 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 riproviamo dai ci abbiamo un cazzo ci abbiamo e ci proviamo tanto questo ce l'hai messo aspetta 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 10 secondi facci decisa come sei andata a mo' aspetta aspetta prendi fiato respira decisa 4 3 2 1 dai come è mo' dai da va bene basta basta l'hai fatto stop stop va bene grazie a tutti grazie a tutti Grazie.